Il Paradiso, Episodi 8-9-2, Maria organizza una serata romantica con Lamantia. Nell'anteprima del Paradisi delle Signore Otto per le puntate di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, Vito Lamantia, Elia tedesco, rivela che c'è qualcosa che non va in Maria Pugliesi, Chiara Russo. Una giovane sarta e i loro compagni sono stati mostrati per riprenderlo. Lui non si è sentito ignorato e ha organizzato una serata romantica per loro due. Intanto Agata, Silvia Bruno, vuole sapere se Roberto Landi, Filippo Scaraffia, è interessato a lei, e Marcello Barbieri, Pietro Mazzotti, vuole sapere se la ragazza è interessata ai suoi progetti. Dopo aver scoperto il motivo per cui lui è interessato a questa cosa. Lasciando l'appartamento, ha intenzione di parlare con Rosa, Nicoletta di Bisciglie. Infine, Matteo Portelli, Danilo D'Agostino, darà risposte al ricatto ricevuto da Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi. Il Paradisi delle Signore Otto va in onda dall'onedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Vito noterà che qualcosa non va in Maria. Gli spoiler delle SOP per l'episodio dell'8 febbraio rivelano che il secondo ricatto di Matteo per mano di Umberto provocherà una grave guerra civile tra i commercialisti delle boutique di Milano. Portelli, infatti, passerà notti in sonni non sapendo come agire per il meglio. Intanto Vito si accorge che qualcosa non va in Maria, ma concetta, gioia a Spaziani, fa in modo di fugare i sospetti del ragazzo siciliano. E Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, Chiara Baschetti, e Vittorio Conti, Alessandro Tersini, sono disponibili. Diventa lucido. Ma mentre Marta, Gloria Radulescu, si prepara ad affrontare gli oppositori di un progetto di edilizia unifamiliare, il rapporto tra il giovane Guarnieri e Tom prende una svolta inaspettata. Maria organizza una serata romantica con Vito la Sinossi dello sceneggiato, che andrà in onda il 9 febbraio. Presuppone che Maria organizzi una serata romantica per sé e per il suo compagno in modo che Vito non si senta ignorato. Nel frattempo Marcello scopre perché Rosa voleva lasciare l'appartamento e finisce per parlarle. Agatha cerca di scoprire se Roberto è interessato a lei. Nel frattempo, Tancredi di Sant'Erasmo, Flavio Parenti, e Matilde sviluppano una relazione temporanea, e Tom finisce per fare una proposta particolarmente importante a Marta. Il banchiere Umberto riceve una risposta da Matteo sul ricatto del commercialista. Riassunto degli episodi precedenti nelle puntate precedenti di martedì 6 febbraio e mercoledì 7 febbraio. Rosa è rimasta colpita dalle attenzioni che Marcello continua a riservare a Matteo, mentre Umberto cerca di trovare un modo per fare amicizia con Flora Gentile Ravasi, Lucrezia Massari. Fare Marcello racconta al fratellastro Matteo che l'aristocratica Adelaide, Vanessa Gravina, non può aiutarla con l'intervento chirurgico a cui deve sottoporsi Silvana, eludi Treccani. Alla fine Matilde diventa ostile nei confronti di Vittorio, mentre Umberto approfitta della cattiva salute di Silvana per minacciare ancora una volta Matteo. Mentre Tom arriva improvvisamente a Milano.